FRIGGIE 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 PESCE Abbiamo invitato due amiche a caso Prego Dopo vi diciamo chi sono Cin 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 Noi iniziamo sempre così Quando noi facciamo il pesce scriviamo pescheria Moreno Eccole Eccoci Moreno Troppe donne Non ha sbagliato In effetti stasera faccio un po' fatica Pescheria Moreno No Non sembra Noi siamo andati a scuola insieme Siamo nati quasi insieme Non sembra perchè io sembro più giovane Così perché Invece Sabina Invece lei è la figlia Francesca Questa sera Lei non voleva venire Te l'hai anche non detto L'ho detto apposta Faremo Tanto pesce fritto E anche Verdurine Verdurine Fritte A fiammifero A castellate E soprattutto La mia curiosità è questa Guardate questa Questa Senegalese si chiama Panocchia Ocica di mare Cannocchia Amata come vi pare Sabina ha detto che questa infarinata e fritta è la figlia del mondo Prego Ok Io quasi quasi La farina Quasi 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 No No Piangeremo Piangeremo La farina Guarda dietro la collega Farina Ah ok Francesca perchè si allergia alla farina Francesca io Francesca È giusto Guarda siamo più forti Qual è la novità? Tu mi abbraccia Qual è la novità? Ah salutiamo Andrea Alfonsi Ciao Andrea E qual è la novità? Esiste Qual è la novità dell'anno alla pescheria Moreno? Eh La peticceria Oh Eh Oh Fai tutto te Eh dai Allora Dai facci vedere E fa quella roba lì Sì Sinceria Fiscia Sei male Dove c'è la La posso chiamare in un altro modo? Sì La tentazioneria Non si dice che quando vado a prendere più su tutte queste robe fatte pronte Una vuoi Ma io resisto perchè io so resistere a tutto Tranne che le tentazioni dicevano scaguare Mamma mia che tentazione Manoli Guarda Proprio Guarda Così L'avevamo scritto qui a pagina 3 del copione Allora cosa stai facendo intanto? Sto infarinando il pesce Eh Visto Visto Quello che viene viene Brava Poi lo sesaccio Prima Cosa mi hai detto che Allora Abbiamo Ah Ci sono i segreti Abbiamo lavato il pesce In acqua Una volta Velocemente E poi Tenuto 5 minuti in acqua e sale Scolato bene bene Infarinato E ora Si fringe E ora si fa friggio In quale? Questa Quella Fringe Vai e vai Senti Senti quel rumore Se devo farle Se ci stanno in pagna Da solo Dio Mi ho legato Il dito Per prendere il suo vogliolo Adesso la scoccia la non facciamo niente? si, mi sono incantata a guardare la friccia di pesce capito? è vero non ha filto sta scoppiando allora questa qua è pronta? la segui tu? io la seguo, la padella? facendo una bella prova vai, è bellissima, lì cosa hai fatto? raccontaci cosa hai fatto per quello è una cosa particolare io qui ho fatto una pastella, la tempura? adesso tempura, non è tempura adesso non voglio essere troppo presuntura è una pastella con l'acqua frettante e il ghiaccio vai, butti in un fridge ho qui, guardi tu, ecco questa è? ancora no e invece abbiamo buttato giù? abbiamo buttato cannocchia, sogliola, paramaro, musbana e triglia busbana è in italiano no? si, busbana, no era per mettermi di piccola? è vero? busbana salutiamo Andrea Alfonsic amico di mamma, amico di mamma, abbiamo fatto scuola felice ragazzi, sto bruciando, mamma, mamma, magari se li metti dentro l'olio no, perché? pensa, lo fate lì, perché? è un po' lontano questa pastella, per ragioni di scena, come si dice? le cose negative, non le devi dire tra tutte e cento volte, frigge e staccia posso, posso dire ragno? il ragno ce n'ha, eh, il ragno perché ce n'ha uno prego chiudo, vado via, rivederci nooo guarda che bellina, e questo ci metti intorno, ci metti il tuo pesciolino si, ma quello è il mio pesciolino ah si, ce n'è uno, aspetta eh aspetta eh ok 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 ahahah sempre ahahahah ma sai che mi piace cucinare con i fratelli? chi? non so se a lei piace cucinare con te, ma no, questa è una risposta a me piace cucinare sempre io l'altra volta ho detto, l'altra volta ho detto, l'altra volta ho detto che mi cucina Giorgia che se vuole sostituirti, io sono contento, a questo punto posso dire, vuoi sostituirmi diventi social esatto, perché no? oh, eh, adesso, eh, eh, eh ahahah io sono qua tazionale ahahah comunque io per girare avrei un mio, un altro amico questo, questo e potete questo mi serviscono per tirare su eh, ringrazio Dio e vai già per te ahahah dai, tirare sui conti ma no, deve essere bene il conto ecco, certo che metterebbe un po' più piccino mi piace ma soprattutto perché queste lezzine qua saranno proprio buonissime tu non potrai mai fare una buona buona ma io sono sempre buona devo dire sì andiamo bene allora perfetto, guarda, ecco qua guarda, queste sono, quelle sono melanzane a camifero e queste sono zucchine a camifero due secondi, mettiamo anche questa guarda guarda, oh io te sono un po' scosso ok anche per cesare sì, per cesare si è ridotto no donna tu è vero hai trovato non hai messo il baccalà a friggere per me adesso lo faccio per te caro è buono anche crudo è buono anche crudo dai un po' sotto anche è tutta pupa lo devo fare, lo faccio io dai no no, te lo faccio io no setaccia vedi, vedi che non fai come va fatto c'è l'osso setaccia setaccia e quindi ci abbiamo messo in anche il salto ci picchia ecco ci sono giunti allora quando ci abbiamo messo? il pesce fritto è una delle robe più buone e riscono sulla terra poi se il pesce lo comprate dalla pescheria Moreno dalla pescheria Moreno se ti caggia in via Verdi con farina se lo comprate dalla pescheria Moreno diventa una cosa veramente unica un po' da un po' dai un po' di favore oh ma chi è che vuole il baccalà? no no, va bene va bene sabina sabina volete gli ingredienti? guardate sotto non lo so sta facendo test bene, allora se permettete salutiamo sabina e francesca grazie grazie di essere stati qui a darmi una mano grazie a voi che mi sostengo perché ci vuole un sottetto tornerà tornerà certamente non faremo più pesce fino a 2021 no, è ora di tornare certo ma qual è la tua specialità di pesce? parlando di pesce pesce YouTube, scriveteli su Instagram, come si può dire l'italiano? Non siate avali, non siate avali. Tu non puoi prevalitare la sua sacenza. Con questo dico. Oh saluta Andrea Ciao Andrea